La Romagna Centro si presenta all'Angelini per invertire la rotta negativa. La striscia nera dei romagnoli non si arresta. Quattro gare, solo due punti raccolti, con una classifica decisamente pericolosa. Di fronte chi sta peggio? Quasi irriversibile la posizione del Chieti, che cerca di limitare le ricorrenti umiliazioni subite in campo. Genitori ed amici incoraggiano dalla tribuna i neroverdi, che in apertura della gara evitano di soccombere su tiro sornione di Tommasini. Risponde la squadra teatina con il dinamico faiella, che di testa svetta per colpire rete, che potrebbe arrivare da un momento all'altro, in quanto i neroverdi sono più ordinati nei fraseggi in velocità. Ma come al solito, gli spazi utili per gli avversari non vengono presidiati a dovere, e così al ventunesimo, l'incustodito Prati gira a rete per il vantaggio bianco-azzurro. Si riparte come sempre dalla salita, esprimendosi palla a terra, ma la gara registra marchiani errori da ambo le parti, e falli sgorbutici e rudezze di troppo, che vengono sanzionati dal direttore di gara con decisioni molto discutibili. La ripresa del gioco inizia senza alcuna variazione in campo. Gli sbocchi in profondità si inaridiscono, in quanto gli ospiti non faticano ad intuire le abbozzate incursioni dei padroni di casa, che sono in continuo affanno nelle fasi di recupero. Muccioli decide la prima sostituzione, fuori Tommasini dentro indelicato. A seguire anche Mariane richiama l'impreciso Spina, che cede il posto a trozzo. Capitan Viscito sferza i propri compagni a non cedere, ma benché l'agonismo rimane sempre acceso, le idee mancano e la squadra Cesenate si affida alla propria fisicità per mascherare la mancanza di tempismo nell'esercitare la pressione di gioco. Mariani opta per Alessandroni, richiamando Arcaleni, ma dopo alcuni minuti la squadra teatina viene decimata. Energico ma non cattivo fallo di trozzo, ed il signor Monaldi decide per l'espulsione del mediano. Di seguito piovono reiterate proteste sul direttore di gara e Viscito viene spedito negli spogliatoi. La Romagna centro ora viaggia sul velluto, tira fuori anche il gioco speculare e l'ostruzionismo, tant'è che a farne le spese, è l'estremo difensore bianco-azzurro Bissi che viene ammonito. L'avversario francamente era abbordabile, ma anche questa opportunità è diventata difficile per il Chieti, che tenta l'impossibile in zona recupero, portandosi in avanti anche con l'estremo Ronchi. L'unico spiraglio di luce tramonta dietro il Gran Sasso, mentre Ronchi nega il raddoppio ospite. Sempre più nuvole nere per l'ambiente nero-verde, che non avendo soddisfazioni dalla prima squadra di calcio maschile, ha potuto vedere il gagliardetto della Chieti Calcio in una scena della fiction Rocco Schiamone, trasmessa su Rai 2. Un altro risultato, non un'altra prestazione, perché diciamo sempre le stesse cose, penso che oggi più che mai i ragazzi hanno messo tutto quello che hanno, e tutto quello che hanno probabilmente non basta per questo campionato. Bisogna guardare in faccia la realtà, cade una palla dentro l'area, prendiamo gol, ripartiamo finalmente cattivi in paio di volte e non facciamo gol, il secondo tempo anche in nove abbiamo rischiato di pareggiarla, però non basta. Spero di incontrarmi con qualcuno domani o dopodomani per valutare appunto questo, anche perché devi andare a campo basso, hai squalificato Viscito, Trozzo, un paio di ragazzi acciaccati, e quindi non possiamo proprio più andare a spasso per l'Italia a fare brutte figure, non credo sia più il caso, credo che sia il caso di intervenire e punto. Prima di mollare mi devono ammazzare, perché non posso uscire così da chiedi, perché io ci sono venuto col cuore, con l'anima, e non si può uscire con dieci sconfitte, assolutamente no. Il peso di dover vincere per forza ci ha schiacciato e quindi ci prendiamo i tre punti, ma dobbiamo migliorare tanto sotto tanti aspetti. Anche noi siamo una squadra giovane, come il Chieti, forse non so, con metà media più o meno saremo molto simili, e quindi dobbiamo crescere e dobbiamo maturare. Oggi comunque ci prendiamo questi tre punti che per noi sono vitali.